bene vi faccio vedere come si può trasportare un tronco anche di 200 kg diciamo meno 120 da solo se vi trovate in caso di necessità si fa così ok ok io l'ho strascicato a meno da 500 metri con una cordicella si tira facendo ovviamente attenzione bene io vi volevo indicare un percorso come quello di tarza se ritrovate a fare una capanna a volte siete anche da soli grazie